Buonasera e benvenuti amici di Fannar, ci troviamo sul campo dello Sport City pronti a raccontarvi il big match della tredicesima giornata della Serie B. Dopo la sconfitta di ieri dell'Evre 1942 avvenuta per mano del Bliss Eur, questa sera le due compagini che si stanno per affrontare hanno entrambe la possibilità di fiondarsi in vetta al girone. Al momento AC Box ed Eur City si tengono compagnia entrambe a 26 punti, pronte quindi a darsi battaglia nel tentativo di conquistare quella prima posizione, la quale arrivato in fondo sta a significare il passaggio diretto alla Serie A2. Giro! 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 Grazie a tutti.